Eccoci qua con un nuovo tutorial su Fortnite su come aumentare gli FPS modificando così la risoluzione base che non si può modificare nelle impostazioni di Fortnite perché dovremmo fare direttamente una modifica nella sua cartella di Fortnite Game quindi andiamo subito a modificarla quindi iniziamo prima a modificare la risoluzione di Fortnite andando direttamente su Esegui quindi o facciamo Esegui oppure tasto Windows tasto Start sulla tastiera più R scrivete %localappdata% fate OK ci apparirà così questa cartella scendiamo fino a giù fino a trovare la cartella di Fortnite Fortnite Game Save Config Windows Client Game User Settings Scendiamo fino a giù, fino a trovare, fino a trovare, fino a trovare, fino a trovare Resolution, Size X, Y Tutti queste risoluzioni qui come potete vedere, tutte queste qua a voi forse ci sarà qualche risoluzione tipo 1920x1080 oppure 2560x1440 oppure anche in 4K vi consiglio di mettere l'impostazione 1440x1080 a tutti e quattro le risoluzioni quindi come potete vedere sia qui che qui 1440x1440x1080 una volta fatto salvate il documento cliccate su Game User Settings Mostra altre opzioni proprietà solo lettura fate applica ok e andate su Fortnite una volta fatto su Fortnite ragazzi dovete per forza modificare le impostazioni grafiche per aumentare gli FPS mi raccomando aumentate anche la risoluzione 3D per avere anche un maggior vantaggio sugli altri per vederli da lontano meglio per visualizzarli ancora meglio con una texture migliore e ragazzi spero tanto di esservi stato d'aiuto in questo video la risoluzione è questa la grafica e le impostazioni sono queste per aumentare gli FPS su Fortnite quindi grazie a tutti per questa visione ragazzi e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao